Guardi, questo mi interessa molto poco, non è questione di persone, non è questione di cosa fa Speranza o cosa fa un altro. Il punto di fondo è dove va il Partito Democratico, questo è il tema, dove va il PD. Avevamo detto Michael a destra e oggi ci troviamo con Verdini sostanzialmente in casa. Questo non è accettabile ed è giusto che il nostro popolo ne discuta. Grazie.